Io lo so che l'avete già scoperto settimana scorsa da queste immagini che vi avevo lasciato, da quello che avevo detto e questo rosso è inconfondibile, la Christmas Edition tutti aspettavate. Oggi però trovate dei ritagli di torrone e un torrone qui perché è un omaggio che voglio farvi e prima però di annunciarvi tutto beviamoci insieme questa miscela a bacio Christmas Edition e vediamo com'è venuta. Sta venendo un'ottima corposità, un'ottima crema, si vede che sta sviluppando bene la macchina ovviamente era già calda come vi consiglio è venuta una bella estrazione si sente una forte aromaticità pur avendo un corpo che si vede anche solo alla vista Buona, è il giusto equilibrio tra braccio e carezza ma poi vi racconto come è fatta ma oggi io voglio chiudere in bellezza dopo questo ottimo caffè vi mangio un pezzo di torrone che sarà la sorpresa di questo video oltre alla bacio lo andiamo a annunciare Iniziamo! Ciao a tutti sono Claudio del Caffè la mia passione e bentornati sul mio canale come ogni anno ormai a tradizione torno alla Christmas Edition un bacio una miscela in edizione limitata soliti 99 pezzi come 99 caffè il mio brand disponibile da adesso sul mio sito correte perché spero finirà presto come tutti gli anni solo in cialda, qua vi spiego anche perché e vi racconto anche com'è fatta Qualcuno di voi già la conosce perché l'ha acquistata l'anno scorso per tutto l'anno mi chiedete di rifarla ma è un'edizione limitata voglio ovviamente dedicarla solo a Natale mi piace la confezione rossa e mi piace anche a me regalarmi un qualcosa di diverso a Natale e l'ho bevuta ed è un incontro perfetto tra l'aromaticità di carezza quindi tutta la sua morbidezza, tutta la sua aromaticità e la corposità di abbraccio quindi la consistenza e il corpo uniti in un'unica miscela che infatti è una miscela molto equilibrata corposa e cremosa ma è il perfetto equilibrio appunto tra abbraccio e carezza sul mio sito come sempre c'è la carta identità in cui vi racconto le provenienze ci sono tre provenienze in questa cialda c'è un'America centrale un'Africa è un'Asia che comunque portano tutti questi sendori all'interno di quest'unica cialda è sicuramente una miscela equilibrata io la definisco equilibrata perché rispetto a braccia ha veramente tanta aromaticità in più e rispetto a carezza ha tanto corpo in più quindi si va veramente a porre in mezzo ed è un incontro perfetto vi racconto perché l'ho fatta in cialda e solo in queste scatole grandi innanzitutto questa scatola è il mio formato standard è da 150 ed è la maniera per far sì che voi possiate apprezzarla perché se vi faccio scatole troppo piccole poi già finisce magari mentre vi ho iniziato a piacere già l'avete terminata invece secondo me il formato oltre le 100 cialde è sempre il formato più giusto per apprezzare un gusto oltre che il più comodo per me per produrlo perché ovviamente fare tante scatoline piccole è molto più complicato sono solo 99 pezzi e sono solamente in cialda questo perché come sapete io sono un pazzo della qualità nel senso io ci tengo tantissimo il mio caffè finisca nelle vostre case sia il caffè che voi miate che voi consumate per far questo mi devo distinguere le brand più grandi e più industriali e più commerciali e come posso farlo? innanzitutto selezionando una materia prima d'eccellenza tostarla in piccoli lotti perché la mia tostatrice è piccola mi ci metto io lì davanti a controllare se è tutto ok a selezionare i chicchi e poi cercare di darmi un prodotto sempre freschissimo se io fossi una grande azienda magari essendo che la scarenza è due anni vorrei iniziare adesso a produrre anche la merce e venderò tra un anno ma essendo io ossessionato alla qualità cerco sempre di produrre quel poco che andrò a vendere il mese seguente quindi l'ho fatta in cialda perché so che la venderò tutto in questo mese di Natale essendo una Christmas Edition se la facessi anche per un modo mio dolce gusto un espresso dove voi amici e mi seguite per la maggior parte avete la macchina a cialda e quella che fa l'estrazione più simile al bar io mi ritroverei magari che alcune produzioni per altre compatibilità starebbero nel mio magazzino 4-5 mesi non succederebbe niente perché si scadono tra due anni ma io non vi riuscirei a garantire quella freschezza da cui io sono ossessionato e quindi quel gusto in tazza e quando aprite una mia cialda sentite proprio che è stata tostata e macinata quasi al momento ma detto questo cosa ci si aspetta da questo assaggio come ho detto è un perfetto equilibrio una miscela molto equilibrata tra l'arabica e la robusta ma comunque è tostata per dare uno stile licoroso, cioccolatoso ma comunque con un'aromaticità tipica del tabacco tipica appunto di piantagione ha comunque un gusto persistente come il tipico espresso italiano è una miscela che io faccio incialdare appunto solo per la Christmas Edition invece per chi ha la possibilità di acquistare il macinato per moco oppure per macchine a braccio o chi ha la possibilità di acquistarlo in grani io la produco tutto l'anno e vi lascio anche in sovraimpressione le estrazioni addirittura in grani veramente una macchina professionale in braccio si riescono a fare dei risultati assolutamente pregonabili al bar questa è una miscela e tranquillamente un bar o un ristorante potrebbe servirvi perché è proprio la classica miscela bar io adesso per questo video natalizio vi ricordo che quindi sul mio sito la trova disponibile in questa edizione limitata 99 pezzi se la volete approfittatele non ci sarà un secondo lotto non ci saranno confezioni piccoli è così 150 cialde se la volete acquistatele in fretta l'unica cosa che vi consiglio di fare è di abbinarla ma l'abbinamento oggi ve lo faccio io innanzitutto vi consiglio di mangiarci un bel cubetto di torrone questi sono cubetti a ritagli tratti appunto da questo torrone aquilano e facciamo sempre noi è un torrone semi morbido quindi è una consistenza molto... una scioglievolezza molto particolare è un cioccolato, nocciole e miele con un'ostia sopra e sotto, una ricetta aquilana unica ma io oggi voglio farvi un regalo di Natale quindi chi vorrà porrà acquistarlo ma per tutti quelli che da qui a domenica prossima acquisteranno due scatole grandi che sia di bacio o di qualche altra mia miscela non è importante, inseranno il coupon che mi lascio in sovraimpressione io regalerò una stecca di torrone quindi una promozione è un mio omaggio per tutta questa settimana fino a domenica sera tutti quelli che inserano il coupon acquistando due scatole grandi va bene sia a bacio e chiara oppure due di abbraccio o due di carezza o due di pensiero o una e una l'importante è che siano due scatole grandi inseriate il coupon io vi regalo una stecca di torrone aquilano mi fa piacere in questo Natale andrete a portare in tavola un pezzo del mio territorio prodotto sempre alla mia azienda dall'altra parte della mia azienda produce dolce liquore come sapete perché siamo due aziende dolce a veia produce dolce liquore a più di 50 anni e 99 caffè invece produce questo caffè artigianale che già avete scoperto comunque la stecca di torrone ve lo maggio io se inserite il coupon e se comprate almeno due scatole bene sono contento di avervi fatto questo regalo sono contento di avervi portato bacio e me l'avete sempre chiesto anche il gruppo Facebook e spero l'apprezzate anche quest'anno e siamo quasi in porcento di Natale ci faremo gli auguri più in là io intanto vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo sabato prossimo alle 2 un saluto a Claudio ciao ciao ciao